signora clarice lei quanti anni ha? cento e lei a cento anni viene ancora a mare vero le piace venire a mare? sì 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 vecchiaia è carogna è carogna la vecchiaia ma lei sta bene ma che non ci arriva è una vergogna quindi la vecchiaia è una carogna ma chi non ci arriva è una vergogna lei a cento anni fuma ancora vero? quindi il fumo non è vero che fa male? no no quante sigarette fuma? adesso poche vero? adesso poche da giovane fumava di più sì 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 lei per i suoi cento anni ha fatto una grande festa vero? sì 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 c'erano tutti i parenti giusto? sì e gli amici ha spendo cento candeline? sì è un bel traguardo vero? sì grazie a tutti 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 grazie a tutti